ok ragazzi ci troviamo finalmente nella quarta e ultima parte del tutorial su FS Passengers come si usa nel concreto FS Passengers ok io ho simulato di trovarci all'interno della cabina del boeing 77 600 e di essere già arrivato al punto di configurazione per quanto riguarda l'inserimento della Seed simulando di partire da Linate quindi quando voi siete diciamo in questa parte della configurazione del vostro aereo questo è il momento di far partire FS Passengers la prima volta che lo fate partire e vi faccio vedere cosa accade allora andate su FS Passengers volo FS e selezionate il volo con praticamente l'aereo corrente che avete sotto mano fate click vi chiederà che la compagnia non possiede questo tipo di aeromobile e vi chiede di aprire appunto il company manager per andare ad acquistare questo aeromobile fate così vedete che la compagnia al momento non possiede nessun aeromobile quindi voi fate buy current FS plane e potete decidere di acquistarlo praticamente con poche ore di volo in condizioni ottimali oppure magari che ha fatto un tot numero di ore e in condizioni pressoché ottimali vedete qua tipo 89% e cose di questo tipo vabbè potete fare quello che volete ovviamente più risparmiate meglio è secondo me quindi acquistiamo questo aeromobile a questo prezzo con 2714 ore di volo quindi magari si danneggerà più facilmente ecco tutto lì ok lo abbiamo acquistato ora possiamo scegliere se questa finestra questa finestra la qui se appunto dopo che siete decollati e riprenderete il volo successivamente vi dirà che l'aereo mobile ha della manutenzione da fare tipo i carrelli tipo le ali qualsiasi cosa vi chieda il gestore della compagnia voi comunque riparate avete comunque degli introiti dei guadagni generati da cosa generati ecco questa magari è la sezione qua dove è scritto pilot è la sezione dedicata al pilota i suoi guadagni il suo stipendio e cose di questo tipo qua price setting qua scegliete praticamente il prezzi dei biglietti quindi in zona della classe VIP prima classe business class ed economy class quindi decidete quanto far pagare il biglietto ai vostri passeggeri quanto far pagare il drink sandwich i pasti caldi e la qualità comunque dei prodotti che vendete a bordo dei vostri aeromobili vi serve per guadagnare fondamentalmente oil price oil price praticamente dice il prezzo del carburante che caricate a bordo dei vostri aeromobili quindi fa un conteggio anche di questo e statistiche statistiche varie di qualsiasi genere per quanto riguarda l'aeromobile o generali appunto della compagnia questo comunque l'acquisto dell'aeromobile ve lo chiede solo una volta sola quando l'acquistate vostro buonanotte il resto settatelo a seconda delle vostre esigenze quindi facciamo close manager ok adesso andiamo finalmente rifacciamo la stessa cosa di prima quindi FS passengers, volo FS passengers e partiamo con l'aereo corrente che abbiamo qua davanti a noi qua vi chiede appunto se utilizzate un aereo PMDG e può andare in conflitto l'uso del carburante e altri parametri voi disabilitate pesi aggiornamento è anche raccomandato farlo quindi cliccate questa casellina qui ok abbiamo il nome della compagnia Pippo Airlines compagnia attiva Pippo e blablabla passeggeri che sono attese al gate sono 64 passeggeri carichiamoli tutti ok carichiamo i rispettivi bagagli io vi consiglio ecco di far combaciare vedete qua c'è scritto total weight far combaciare il total weight al gross weight che avete all'interno dell'FMC quindi adesso io avevo 125.8 come gross weight quindi io lo porto in maniera simile non mi si sposta non capisco perché come mai va bene comunque portatelo comunque al carico che avete nell'estive uguale a quello che avete configurato su sul vostro FMC e poi andiamo a cliccare per la prima volta che lo facciamo set type mettete normal flight esattamente questo qua ve lo chiederà solo una volta e non più quindi facciamo yes set destination inseriamo il codice e cavo dell'aeroporto di destinazione io metto esempio Bari vedete che compare Bari palese macchie Italia la durata del volo cos'è un'ora un'ora e un quarto più o meno un'ora e venti stiamo larghi ecco state sempre larghi magari con i minuti con le ore perché dovete calcolare dal momento che lasciate il gate al momento del taxi durante il volo e il taxi di arrivo al gate finale di parcheggio quindi state larghi con i minuti quindi i passeggeri saranno contenti se rimanete nel range dei minuti che date quindi facciamo stiamo larghi un'ora e mezza calcoliamo tutte le le possibili come si dice imprevisti che possono capitare e fate click su set destination ok e poi fate caricate immediatamente i passeggeri qua potete scegliere di mettere le velocità la V1 la VR la V2 adesso io non le avevo ancora calcolate quindi vabbè si può anche lasciare in bianco e fate click su start flight ok vi compare questa finestrella qui che praticamente questo tastino qua serve per far lacciare le cinture ai passeggeri questo qua serve per far servire le bevande ai passeggeri questo i sandwich e questo il pasto caldo altre cose c'è la musica se volete attivare la musica prima del decollo non so se si sente vabbè comunque la togliamo e questo serve per far partire il film si se lo fate prima non vi dice che non potete farlo che altro che altro basta tutto qui poi lo vedremo nello specifico durante la diretta che farò fra qualche giorno tutto qui quindi per quanto riguarda il settaggio e l'attivazione di FS Passengers se ci sono domande nello specifico potete scrivermi nei commenti e lo vedremo meglio più avanti questo a grandi linee poi dopo comunque una volta che lo utilizzate è facile intuitivo capirete come funziona questa comunque è per quanto riguarda la partenza a utilizzare questo software vi ringrazio dell'attenzione se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un pollice in su se ci sono domande ancora mi ripeto non esitate a scrivere e se non siete iscritti al canale iscrivetevi pure e vi ringrazio ancora una volta e ci vediamo al prossimo tutorial ciao